no funziona benissimo l'audio adesso io ho perso le parole non potete capire il caldo ragazzi c'è una cosa proprio fuori dal normale oggi proprio si brucia oggi è sabato si brucia ragazzi e io non so da voi scrivetemelo sotto nei commenti ma da me si brucia allora siamo stati un po in giro oggi un po dentro e fuori dai centri commerciali per prendere sinceramente un po d'aria fresca perché non c'è ristoro a niente vai in qualsiasi posto si vada fa caldo proprio caldo siamo entrati in un negozio volevo prendere un costume per giulia volevamo comprare un costumino diverso niente siamo dovuti uscire manco l'aria condizionata aveva acceso e dentro siccome picchiava proprio il sole dentro il negozio queste con le porte aperte bruciava dentro dentro bruciava e io momenti me ne venivo a meno ho detto michele andiamo via te so dico perché non ce la faccio proprio quindi anche adesso che sono incominciati gli sconti uno poteva vedere in giro a parte il fatto che gli sconti cioè non neanche sono incominciati adesso quindi i prezzi non è che siano proprio perlomeno nella grande marca non trovi ancora lo sconto bello forte però comunque allora annunciazione annunciazione per chi non dovesse avere instagram kira è incinta è incinta la gattuccia ci puzzo vibra e i gattini sono già sistemati presso che tutti se ne fa di meno o di più rispetto a qui se ne fa di più sto nella più fino all'orlo perché dovrò mettere annunci dappertutto anzi volete un gattuccio di kira no praticamente è successo che la situazione ci è sfuggita di mano e quando si pensava che non era ora invece era ora ed è bastato un attimo un flash perché michele si è accorto che la gatta veniva coperta e quindi non abbiamo potuto fare niente e ho detto va bene abbiamo incominciato la ricerca e i gattini sono tutti sistemati comunque uno lo terremo noi perché giulia ha detto se uno lo poteva tenere lei e siccome la gatta non è molto grande perché kira è una gattuccia non è una gatta grandissima quindi si presuppone che non ne faccia parecchi adesso è un mese a un mese la veterinaria mi ha detto di incominciare visto che la gattina è piccolina di incominciare a dare cibi un po più proteici quindi il cibo dei gattini intervallandolo con quello che lei già sta prendendo perché comunque siccome kira tende a mangiare un po di più ultimamente nonostante sia caldo lei cerca proprio da mangiare e quindi forse anche perché sta più a casa e non so dorme di più e più coccolona io vivo questa gravidanza come fossi io la nonna ecco devo dare ragione a todo allegria la ragazza che mi disse anche bella nonnina tutta sprint ecco e con kira mi sento un po la nonnina sprint perché comunque è troppo bella è tenera lei è stupenda quindi sono proprio felice sono contenta quindi siamo andati da pet market abbiamo incominciato a vedere un po solo che pet market da noi ha incominciato a tenermelo roba ci sono rimasta male perché comunque per noi è un punto di riferimento importante per gli animali perché è un negozio molto grande altrimenti mi dovrei proprio muovere più a nord e la cosa non mi conviene allora cosa abbiamo deciso di fare abbiamo preso quello che potevamo prendere e vediamo se in settimana settimana prossima praticamente riforniscono gli scaffali perché ce l'erano veramente pressoché vuoti allora prima di tutto preso delle crocchette della purina queste qui in generale catti catti gatti adulti ricco di pollo 99 centesimi questo mi è sembrato vabbè la scatola è 400 però mi è sembrata buona come occasione siccome la purina è buona questo preparato il 1904 quindi è proprio fresco come come lavorazione e ho deciso di prendere anche questo perché comunque qua no aromi artificiali scusate che metto gli occhiali quindi dicevo sono da mettere gli occhiali no aromi artificiali e e conservanti aggiunti e credo che sia un buon prezzo se dovesse essere buono effettivamente buono in settimana andiamo a prendere altre due tre scatole perché comunque mi sembra che sia molto valido comunque questo poi come premio per il cane abbiamo preso questi biscotti plus a un euro e venti anche questo come prezzo mi sembrava buono no gm questo non testati su animali insomma mi sembra per cani di media e piccola taglia qui c'è addirittura la foto comunque il disegno comunque sono degli ossicini perché quando il cane va fuori praticamente sapete che noi diamo il premio e quindi anche se non ci serve perché lui oramai lo sa che la deve fa fuori però ha maggior ragione per lui anche un divertimento con calcio minerali insomma con verdurine dell'orto vabbè questa è stupenda sta cosa fa molto vecchia fattoria poi ho adesso preso passiamo a mangiare proprio dei cuccioli che torno a ripetere non era proprio pieno pieno di cose comunque io ho preso questi mi pare 60 centesimi una cosa insomma non costa poco è un etto di roba questi qui ho trovato tutti quelli al pollo mi sono presa quindi questa qui c'è il cane dei vicini che abbaglia poi ho preso questi qua sempre per gattucci ho preso questa mousse per gattini pollo e tacchino eccolo qua poi ho preso quest'altro 49 centesimi per gattini pollo un altro pollo e tacchino e un altro pollo c'era che facevi vedere uno e uno avevi fatto moltiplicavi a posto ho preso questo poi abbiamo preso i pannoloni e se dovesse essere conveniente per voi 480 questi qua 60 per 90 a fronte di quelli che ha tirato fuori il risparmio casa 5 euro e 40 che mi sembra proprio una cosa assurda considerato che non sono di marca diciamo ma porta il marchio della casa quindi risparmio casa non mi sembra nemmeno che siano buonissimi ecco come pannoloni sono abbastanza sottili quindi ha comunque una diciamo un'assorbenza diversa poi abbiamo preso per la lettiera io mi trovo molto bene con la sanicat vabbè questo costava 7 euro e qualcosa questo qui fa la palla che per noi è importante sono questi ai microgranuli e comunque penso che sia una cosa profumata noi non usiamo questo qui proprio usiamo quello che è tutto bianco solo bianco però non c'era sempre della sanicat quindi comunque noi ci troviamo bene con 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 questo tipo di di è questo tipo di perché le altre dopo un po me puzza me me puzza di piscio io scusate non so come altro definirlo è considerato che noi puliamo la lettiera anche 6 7 volte mazza quanto pesa 6 7 volte al giorno perché comunque ogni volta che i gatti vanno noi puliamo quindi non è che dici erica sì però tu la pulisci una volta a settimana no no io la pulisco sempre continuamente è una droga per noi la lettiera perché comunque in casa deve essere pulita sempre però quella lì con i propri sassolini quella non ci piace poi siamo andati da casa shop busta tattica casa shop perché ci sono gli sconti e con gli sconti da casa shop sono arrivate anche le cavallette anche noi è perché comunque gli sconti da casa shop andate perché stupendo gli sconti sono veramente sconti da casa shop a incominciare da questo che costa costava un euro e 49 l'ha tirato fuori a 44 centesimi ero curiosa di vedere sotto ecco qui prima 74 e dopo 44 e io mi sono trovata benissimo con questi adesivi qua perché sono veramente belli quando allora vedendoli qua un che alzo l'asta come ve alzo guai ad eh eccoci qua eccoci se io faccio così riesco a farvi vedere tutto il potere dell'asta tiger e gli stickers scusate gli schitti sono bellissimi sull'agenda qui sono sono confusionari ma sull'agenda sono veramente belli questi qua questo questo guardate che carini questi sono belli 44 centesimi è un offertona infatti credo proprio di ritornare speriamo di ritrovarli perché erano rimasti veramente pochi di solito il magazzino poi hanno le le scorte quindi questo poi Giulia ha preso l'ennesimo spinner questo è proprio bello questo è pesantissimo gira è una cosa finta e siccome è furato quando muovo mi fa un attimo l'attrito perché passa l'aria dentro quindi è veramente carino questo qua c'era anche quello che si illuminava ma lei ha preferito questo non capisco perché di sto colore a perché era metallizzato mamma questo qui è questo qua quindi questo pagato 3 99 dopo ce n'era anche a 2 99 ma era plastica questo pesa proprio questo è bello pesante bello come lo fa lei questo è il terzo ne ha tre così giusto per quando poi non andranno più di moda e lei non ci giocherà più riprenderemo uno io uno michele uno spillo passiamo il tempo noi mamma poi poi nel reparto perché sia a casa che maxi toys c'era anche a un euro e 99 mamma 99 c'era anche il diario di minni e noi l'abbiamo preso perché perché noi io e Giulia siamo delle grandi estimatrici di minni a noi piace perché comunque usano sempre questi colori rosa c'è il pua lei piace molto il rosso quindi comunque a 1 99 appena l'ho visto lei ne ha tantissimi di diari dei segreti questo sarà farà la fine degli altri che comunque non è che li usa tutti lei li tiene più che altro per bellezza questo con lucchetto è veramente carino non lo apro perché lo aprirà lei forse questo qua io lo plastifico perché questo è veramente carino questa cosa qui ok poi non lo rompere mamma questo che te lo plastifico capito nenni se vuoi questo qua poi a costavano un euro e 99 tirati fuori a 59 centesimi e prima ancora a 99 ho preso questi bottoni che non sono grandi come gli altri che io ho di solito ma 59 centesimi non li ho lasciati assolutissimamente lì me li sono presi perché comunque mi piacevano tantissimo anche adesso con le decorazioni dell'agenda questi sono veramente belli eh quindi questi qua mi sono piaciuti tanto ah questo è come questo vabbè comunque mi piaceva a me lo scacco mi piace moltissimo quindi insomma mi sembrava un'idea carina eh questo è qui per fare le clip le molteci teplici clip quindi questo poi 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 questo è proprio è il clou 89 centesimi prima costava 2 euro e 99 e prima degli 89 centesimi li ha tirati fuori a 1 euro e 49 guardate 89 centesimi non glielo ho lasciato ho preso questo qui che c'ha praticamente la la trama aspettate che metto lo zoom dei gatti questo trovo che sia stupendo quei gatti adesso lo apriamo insieme e così vediamo un attimino quello che insomma è un 16 per 23 eh non è che siano molto grandi e questi qua con praticamente l'unicorno amore questo con un po' peace and love questo col lupo o il coso quello dei sogni insomma il mandala questo questo diciamo è più in generale questo qua è tema gatti quindi adesso lo apro prendo le forbici e lo apro con voi io l'ho fatta ad aprirlo ma io ho dato micchi e adesso micchi sta facendo la guardia perché chicco non si deve mangiare la roba di chira non so se si vede eccoli lì chira c'ha il mangiare quello dei cuccioli e chicco invece c'ha il mangiare normale per gatti adulti e micchi sta a fare ma guarda tu adesso dobbiamo fargli la ronda dovevamo fare perché chicco ci si è affiondato sul mangiare sua ma voleva il mangiare di chira voleva ma vabbè allora abbiamo aperto questi qua anzi li ho aperti erroneamente pensavo fossero dei semplici diciamo fogli invece sono dei bigliettini sono molto carini perché questo vuol dire che sono proprio grandi a foglio intero questa cosa vedete dietro è piegato questa cosa è veramente carina questo è proprio guardate che bello che è io questo non potrei mai è cieco da sola però questo qui sono fatti proprio bene questo col lupo è stupendo guarda questo con l'unicorno è la fine del mondo bellissimo questo love no vabbè queste sono stupende queste cose queste sono cose che non potrei mai riprodurre perché sono proprio piccole il foglio è veramente grande ah certo poi si ripetono quindi comunque è veramente carino questo è carino quest'altro invece con i gatti facciamo carrellata questi hanno dei punti molto piccoli però comunque si possono colorare anche questi e vedi questo è un po' più grande e questo è bello anche perché essendo cartoncino non passa dietro è proprio carino questo è proprio carino questo mi piace 89 centesimi ragazzi se vi doveste capitare di passare lì entrate dentro e dite che vi manda Erika vabbè dopo sta stupida ragazzi vi posso salutare vi mando un bacio vi voglio bene grazie a tutti ciao buona domenica perché questo video andrà online domani che è domenica quindi buona domenica ragazzi non uscite nelle ore più caldo noi l'abbiamo fatto e siamo morti ciao